La tragica vicenda di Giulia Cecchettin ha riacceso il dibattito sulla violenza di genere, portando alla luce dinamiche inquietanti di controllo e abuso. Il suo assassino, Filippo Turetta, sembra avere esercitato una sorveglianza ossessiva sulla giovane nelle ore precedenti il crimine. Le immagini delle telecamere hanno rivelato un comportamento preoccupante. Turetta monitorava ogni movimento di Giulia, dimostrando una strategia di sfruttamento e abuso che ha portato a un atto di violenza devastante. Il video proveniente dal ristorante McDonald's, dove i due avevano cenato, è cruciale per comprendere la natura del loro rapporto. Le riprese mostrano chiaramente che Turetta, anche quando si allontana per ritirare l'ordinazione, continua a tenere d'occhio Giulia. La sua postura e i suoi gesti indicano un controllo costante, senza lasciare spazio a fraintendimenti. Le indagini hanno rivelato che Turetta avrebbe anche comunicato esplicitamente con Giulia, suggerendole di non usare il cellulare, un atto che sottolinea la sua intenzione di prevenire qualsiasi richiesta di aiuto da parte sua. Il controllo esercitato da Turetta su Giulia non si limitava a sguardi indiscreti. Le testimonianze e i rapporti degli inquirenti ribelano che Turetta agiva come un custode della sua libertà, limitando severamente le sue interazioni con il mondo esterno. Questo comportamento, tipico di una relazione abusiva, non solo privava Giulia della sua autonomia, ma alimentava anche un clima di paura e sottomissione. La comunicazione non verbale tra i due durante la cena solleva interrogativi sulle dinamiche relazionali e sulla natura del loro legame. Dopo la cena, Turetta ha caricato Giulia nella sua auto, avviando una serie di eventi che avrebbero portato all'omicidio. Le circostanze che hanno condotto a questo atto di violenza letale sono ancora sotto indagine, ma le ultime rivelazioni indicano un cambiamento drammatico nel comportamento di Turetta. Questo suggerisce che il suo bisogno di controllo sia degenerato in un atto di omicidio brutale, risultato tragico della sua violenta gelosia e possessività. Il caso di Giulia Cecchettin ha messo in luce un problema sociale di enorme gravità, la violenza di genere, spesso radicata in dinamiche di controllo e abuso. Le testimonianze emerse dalle indagini sollevano preoccupazioni crescenti riguardo al comportamento misogino e violento, evidenziando la necessità urgente di affrontare il fenomeno attraverso educazione e prevenzione. La reazione dell'opinione pubblica a questo tragico evento suggerisce un impegno crescente per garantire che simili tragedie non si ripetano, promuovendo una cultura di rispetto e parità nei rapporti interpersonali. Il caso di Giulia non è solo una dolorosa perdita umana, ma rappresenta anche un'importante occasione per riflettere e agire concretamente verso una società libera dalla violenza.